1.400.000 persone, in tanti, si sono armati di carta e penna per far rimanere l'acqua un bene pubblico, libero da interessi imprenditoriali. Ora il governo, ha anticipato il ministro dei Romani, sta pensando a un provvedimento, presumibilmente un decreto legge, che potrebbe far saltare il referendum contro la privatizzazione dell'acqua previsto per il 12 e 13 giugno. In quella data si dovrebbe votare per l'acqua, per il nucleare, per l'abolizione del legittimo impedimento, legge che mette a riparo il presidente del Consiglio dalla ripresa di tre processi a suo carico, Mills, Mediaset e Mediatrade. E per Di Pietro, questo è il vero referendum che il governo vuol far saltare. Mentre per Emma Bonino, dei tre referendum si parla poco, soprattutto in TV, perché la commissione di vigilanza RAI non ha ancora fatto il regolamento sulla comunicazione elettorale. Come per il nucleare, il provvedimento governativo sull'acqua potrebbe sfilare dalla decisione degli elettori anche a questo quesito, lasciando, per ora, solo quello sul legittimo impedimento. I sostenitori del referendum sostengono che il governo voglia, in questo modo, far mancare il quorum, quindi far fallire il referendum. Un sospetto basato su un precedente, la decisione del ministro Maroni di non accorpare il referendum alle elezioni amministrative, che, da una parte, avrebbe garantito l'affluenza alle urne e dall'altra avrebbe permesso il risparmio di 400 milioni di euro. Per Urso, di future libertà, la strategia di chi dice rinunciamo al nucleare e alla liberalizzazione dei servizi idrici per svuotare l'appuntamento referendario, fa il paio, continua Urso, con il celebre funesto Andiamo al mare di Bettino Craxi.